Ci sei? Ci sei? Toi dieci. Dieci. Quattro. Tre. Bravo, dai eh. Guarda qua. Bravo, su, su, su. Ottimo, Gumpia. Bravo. E così. Due e mezzo. Cinque. Sì. Dieci. E. Venti. Sì. 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 è passato solo un minuto e trenta è passato solo un minuto e trenta non girarli, tienili così due minuti passati hai cinque minuti per fare il complex e poi c'è tempo sì, ancora due minuti mi sono migliorato, mi dico sì ho fatto quattro in più di quelli di resto e tre quattro in più di overhead vabbè, sono tanti sì, e l'itra voglio migliorare di più però, vabbè sì, sì, va bene, prova così finisce ora il terzo minuto, ancora due qua ancora due minuti hai sì, sì, te lo diciamo tranquillo, tranquillo si, ma te li nomino sì, se no non riesci a tenere lo stesso numero te li nomino vabbè, quanti hai detto che ne vuoi fare? sette ok, fai nel primo giro nove poi il resto prova sette hai ancora un minuto e mezzo un minuto e mezzo un minuto un minuto un minuto un minuto ma ci pensi lo vai e mezzo, adesso che lei mi ha detto va sul terzo terzo o quarto terzo o quarto terzo o quarto eh quaranta trenta venti secondi venti secondi dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno via bravo due tre quattro cinque sei sette sette otto bravo trentacinque secondi mancano uno due tre quattro cinque sei sette ancora due otto bravo hai mancano sedici secondi quindici secondi due dieci cinque quattro tre due uno via uno due tre tre quattro cinque sei sette ultimo bravo 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 come prima uno due tre quattro cinque ancora due due va bene quindici secondi così eh cerca di tenerlo che va benissimo dieci cinque quattro tre due 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 tre quattro cinque sei dai 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 eh tre sette sette otto bravo così 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 uno due tre quattro cinque bravo giù dieci secondi dai eh tieni così ne facciamo qualcuno in meno quattro tre due uno via dai eh quarto round uno due tre quattro bravo così 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 cinque due va bene eh sei sette ultimo ciao otto bravissimo dai 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 anche cinque soli eh uno due tre quattro uno bravo tredici dodici dieci dai eh resisti resisti ti andando benissimo cinque quattro tre due uno via bravo gol uno due tre 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 quattro cinque sei dai 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 sette otto va bene anche quattro eh dai 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 attaccati bravo uno due tre quattro bravo dai ultimi due giri tieni duro dieci secondi cinque quattro tre due uno go dai che questo è il più difficile mentalmente però devi resistere eh bravo uno bravissimo bravissimo due così subito giù bravo tre ottimo quattro bravissimo così 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 cinque sei ultimi due dai 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 bravo dai l'ultimo bravo dai eh quattro di nuovo dai che ce li hai dai subito ora bravo uno due tre l'ultimo bravissimo dai eh l'ultimo devi volare eh dieci ce l'hai ce l'hai sì sì credici spegni la testa e vai cinque quattro tre due uno via come prima eh ce li hai Paul uno bravo così subito giù bravissimo due tre quattro bravo 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 vai su vai vai Paul cinque sei dai che ne mancano solo due due sette ultimo subito giù su dai dai bravo dai eh hai venti secondi dai 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 tre subito e poi gli altri tre dai 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 forza Paul tre due uno vai uno due tre dieci secondi subito vai attaccati sì tienimi tu che hai eh Anka bravo tre due uno quattro ok le registrazioni le hai fatte tutte sì la sbarra forse sì bravo Paul ora un'altra è sì come qui ci sono tanti le fattime le fattime le fattime Ah!